Gli audio racconti, serie Solar Pons, la virgola al posto giusto di August Derlet. Letto da Adam Quando scorro i miei appunti sui casi presi in esame dal mio sagace amico Solar Pons durante il 1922, mi trovo in difficoltà per la scelta di una vicenda tipo. Nel corso di quell'anno, infatti, egli si occupò fra gli altri del singolare caso di Herrenville, il mendicante paralitico con il suo eccezionale pappagallo, dell'imbarazzante enigma di Lily MacLean, dotata di una straordinaria chiaroveggenza, del complicato rompicapo delle cinque mosche artificiali e dello spaventoso affare del lupo mannaro di Tottenham. Ma la vicenda che fa spicco non è nessuna di queste. A mio avviso la più risaltante, anche se forse la più modesta, è quella che nelle mie annotazioni ho intitolato La dama in grigio, sebbene Pons sostenga a spada tratta che il titolo La virgola al posto giusto sarebbe più appropriato. La faccenda pervenne a Pons da una fonte inusitata. Forse fu l'unica che arrivò fino a lui per mezzo di un gruppetto di scugnizi che egli chiamava spesso di rinforzo. Gli definiva i marginali di Pride Street. Monelli in gamba, intelligenti, sempre pronti a collaborare con buona volontà ed in maniera riservata per l'onesta mercede di una sovrana. Essendo ragazzi, potevano intrufolarsi inosservati in molti posti dove Pons avrebbe richiamato l'attenzione e perciò, in certe occasioni, gli fornivano un aiuto inestimabile. David Benjamin, un capelluto ragazzo dalla carnagione bruna, il leader incontrastato dei marginali di Pride Street, nel tardo pomeriggio di un giorno di marzo salì le scale e guardingo e bussò alla nostra porta quasi timidamente. «È uno dei ragazzi», disse Pons alzando la testa. «Ha paura di scatenare le ire della signora Johnson, credo. Apritegli, Parker!» Ubbidì, sorprendendo David, nell'atto di togliersi il berretto. «Entra, David, entra!» disse Pons accogliendolo con sincero piacere. «Raccontami i tuoi guai, figliolo!» «Signor Pons, signore», disse il ragazzo entrando, «noi abbiamo pensato che è meglio se la guardate voi, questa cosa qui!» porse a Pons un ciottolo, anzi un sassolino si può dire, tanto era piccolo. Il mio amico lo afferrò interessato e l'esaminò alla luce della lampada da tavolo. Mi affiancai a lui, chinandomi in avanti per vedere bene anch'io. Sul sasso, sgraffiata alla bella e meglio, probabilmente con uno spillo o con qualcosa del genere, si leggevano tre parole. «Aiuto, per favore!» Strizzando gli occhi, Pons fissò il ragazzo. «Dove lo hai preso, David?» «Oggi siamo stati a Woolworth, signore!» «Bert ci ha una zia che sta di casa vicino a quel posto che si chiama Elephant and Castle e noi siamo andati a trovarla!» Poiché il palese interesse di Pons provava che David non era venuto in vano, il ragazzo continuò il suo racconto con maggiore vivacità. Risultò che il cugino di Bert, dopo aver fatto gli onori di casa, aveva condotto i suoi ospiti a fare un giretto nelle vicinanze. Allontanatisi un bel pezzetto dalla casa dove si erano recati in visita, i ragazzi si erano trovati davanti ad una proprietà cintata da un alto muro, interrotto in un paio di punti da cancelli di ferro battuto. I ragazzi si erano ammassati davanti ad una cancellata, sbirciando all'interno del giardino, all'interno del quale passeggiavano uomini e donne indossanti uniformi grigie, tutti, a quanto pareva, scortati da guardiani o da accompagnatori incaricati di sorvegliarli. Ad un tratto, una di quelle donne in uniforme grigia si era messa a correre verso l'uscita, inseguita da vicino da una guardiana che l'aveva raggiunta proprio nel momento in cui arrivava al cancello, che del resto era chiuso a chiave. La donna in grigio, riuscita ad agganciare lo sguardo di David, il maggiore dei quattro ragazzi, mentre si aggrappava alle sbarre, aveva lasciato sfuggire dalle dita il sassolino, che, rotolando per terra, era finito vicino ai piedi di David. Sul dorso della mano destra, vicino al polso, la donna aveva una cicatrice sghemba ben visibile. Dopo averla trascinata via con rudezza, la guardiana era tornata al cancello per scacciare i ragazzi, ma nel frattempo David aveva raccolto il sasso. Notato quello che c'era scritto sopra, egli aveva tenuto consiglio con i suoi compagni. Parere unanime, bisognava portare il ciottolo in Pride Street e consegnarlo immediatamente a Solar Pons. «Appena sono tornato a casa, sono venuto a portarvelo, signore», concluse David. «Bene hai fatto, David. Tieni, prendi». Pescata in tasca una sterlina, Pons la diede al ragazzo, che sorrise e con gratitudine. «Il sasso lo tengo io. Può darsi che abbia di nuovo bisogno di voi, ragazzi. In tal caso, te lo farò sapere. Metteremo in chiaro questa faccenda». Dopo aver ringraziato, David se ne andò scendendo le scale rumorosamente, in contrasto con la sua entrata fortiva. «Ecco una sterlina buttata via. Questo è certo», dissi. «Dubito che qualsiasi contributo allo sviluppo della facoltà di osservazione dell'essere umano possa mai considerarsi buttato via, Parker», replicò Pons sovrapensiero. «Perché avete detto così?» «Non seppi trattenermi dal sorridere». «Perché dalla descrizione del ragazzo ho capito di che posto si tratta. È la clinica privata del dottor Sloan Soler. Per malattedimente, si capisce». «Il gesto di dare quel sasso è soltanto la patetica, ma tipica reazione che ci si può aspettare da gente tanto alienata da dover essere rinchiusa dietro le sbarre». «Ma sentilo!» mormorò Pons rigirando il ciottolo tra le dita. «Mi meraviglio che siate così cattedratico, Parker». «Sono un medico, so quel che dico, Pons?» «Replicai non senza una punta di orgoglio». «O sarei l'ultimo a contestarlo, ma credo che vi siano cantucci e recessi del corpo come della mente, su cui anche i luminari della medicina non sono ancora edotti in modo convincente». «È così, concessi». «Chi può capire le bizzarrie della mente umana. Io stesso mi guarderei bene dal rivendicare tanta sapienza. Ma sondare e scrutare gli abissi mi elettrizza sempre. E ora come ora, sono incuriosito da questo messaggio». «Ascoltando il racconto di David, non ho potuto fare a meno di riflettere su quanto sia astuto ed intelligente il modo in cui è stato trasmesso». «Oh, alcuni di quei poveretti sono molto furbi». «Naturalmente non dispongono di carta, ma ricorrere ad un sasso e a degli spilli è una dimostrazione di grande tenacia, non trovate, Parker?» «Sì, sono anche tenaci». «Credo che in certe occasioni siano perfettamente uguali ai sani di mente, ai cosiddetti normali, intendo. Non è così?» «Qualche volta sì, quando persino l'interpunzione è corretta», disse Pons mettendomi davanti il sassolino. Innegabilmente c'era una vircola collocata al posto giusto. Dopo la prima delle parole, è tanto laboriosamente scalfite e sul sasso. «Aiuto, vircola, per favore». Secondo me, Parker, una punteggiatura accurata non è un attributo abituale delle persone squilibrate, specialmente quando, come nel caso attuale, esse lanciano un grido d'aiuto tanto disperato. «Amico mio», obiettai, «fra la pazzia e la sanità mentale non esiste una linea di demarcazione netta e precisa». «Verità sacrosanta, Parker». Mi guardò in modo strano, gli occhi assorti come a scrutare un orizzonte lontano. «Ultimamente ci siamo annoiati a morte, Parker. Credo che sarebbe il momento buono per migliorare le mie cognizioni sugli alienati rinchiusi nei nostri manicomi. Voglio che domani mi facciate ricoverare nel sanatorio del dottor Soler». «Come? Pons, state scherzando?» «Mai stato più serio». «Ma è un'idea da matti». «E io sarò matto da legare, se occorrerà». Ho sempre avuto una predilezione per i commensali di Alice». «Pons, il dottor Soler non mi piace». «State tentando di influenzarmi, Parker». Mi canzonò. «La sua... la sua reputazione». «Per favore, lasciate che io giudichi di persona». «Oh, andiamo!» «Soler non è un uomo da prendersi alla leggera. Ho delle buone ragioni per ritenerlo pericoloso. E altrettanto si può dire della sua clinica». «Il pericolo ha sempre il suo lato affascinante. E in questi ultimi tempi la nostra vita è stata più noiosa del solito». «Con un'alzata di spalle, per quella sera abbandonai la partita. Deciso a togliergli quella pazza idea dal cervello l'indomani mattina». «Ma il giorno che seguì, trovò Pons alzato con il sole e intentò a coltivare uno dei suoi divertimenti più detestabili». «Gli esercizi di tiro». «Praticati nella stanza che fungeva contemporaneamente da salotto e da studio». «Furono le secche detonazioni della sua arma a svegliarmi». «Lasciata la mia camera, lo raggiunsi, trovandomi di fronte non l'abituale compagno di gran parte dei miei giorni, ma un irriconoscibile individuo travestito da commerciante e della media borghesia, provvisto di una certa agiatezza, ma afflitto dall'incapacità di sapersi scegliere i vestiti adatti». «Per la verità, se non fosse stato per gli esercizi di tiro, sarei stato seriamente in dubbio se riconoscere, nell'individuo in cui si era trasformato, il mio coinquilino». «Si era truccato il volto con tanta perizia, senza l'aggiunta di barbigi o di onor del mento, da somigliare indubbiamente più al mattoide che si era prefisso di impersonare che a solar pons». «Gettando da una parte la rivoltella, tirò indietro il petto ed ingobbì le spalle, diminuendo così la sua statura, e tesi in avanti le mani giunte come in un gesto nervoso, cosa che lo rese ancora più in carattere con il suo ruolo». «Sono Samuel Porter, arrivato di recente dal Canada, per servirvi Parker», disse con una voce sottile, completamente differente dalla sua. «Siete proprio deciso ad andare fin in fondo allora», chiesi prendendo posto a tavola per la prima colazione. «Sì, signore». «Soltanto a causa del sassolino di una povera mentecatta». «A causa di molto meno, amico mio! A causa di una cosa tanto minuscola, quanto può essere una virgola al posto giusto». «Sedete di fronte a me». Impersonerò un commerciante ritiratosi dagli affari, che ha perso la tramontana a furia di preoccuparsi per i suoi investimenti in azioni canadesi. Azioni che ultimamente sono crollate di vari punti, come potrete constatare nella rubrica finanziaria del Times. «Sono venuto a Londra per visitare alcuni parenti. Se necessario ci penserete voi a trovare chili in persone. E voi mi metterete sotto osservazioni, esigendo però che io non venga molestato. Devo avere mano libera in un certo senso, nei limiti che mi saranno consentiti». «Ah, Pons, vorrei proprio persuadervi di abbandonare questo proposito pazzesco». «Non dite altro, Parker. Desidero che mi facciate ricoverare questa mattina stessa. Per favore, prendete gli accordi necessari e fate in modo di venirmi a trovare domani nel pomeriggio». Visto che era irremovibile, dopo una lunga telefonata col dottor Soler, a metà della mattina accompagnai il mio amico nella clinica privata, che si trovava nei pressi dell'osteria Elefante in Cassa. Con profonda apprensione lo lasciai nelle mani di un uomo che, a dispetto della sua grande reputazione, il fatto di medicina era poco più che un ciarlatano. Dopo una notte insonne in cui mi parve che il tempo non passasse mai, mi presentai al sanatorio di Soler per una visita di controllo al mio cliente. Mi fecero entrare in un salotto dove poco dopo condussero Pons, che io avevo descritto come un paziente facilmente eccitabile, con la mania di parlare da solo. Appena oltrepassata la soglia, egli si fermò a fissarmi con sguardo torvo finché l'inserviente non se ne fu andato. Poi avanzò esitante, recitando la sua parte alla perfezione. «Siete il dottor Parker?» domandò. «Venite avanti, signor Porter, sedetevi», risposi. «Vi trovate bene qui? Vi sentite più riposato?» Pons si avvicinò, parlando ad alta voce. «Mi trattano molto bene, sì, ma deve costare molto, non è vero? E chi tirerà fuori tutti i soldi?» Sottovoce aggiunse. «Parker, siete un esemplare perfetto di conversatore attaccato ai vecchi pregiudizi». «Per piacere parlate liberamente», dissi. Scosse quasi impercettibilmente la testa, dandomi a capire che era possibile fossimo sotto controllo audiovisivo. Sedutosi accanto a me, si diede a raccontare una farraggine di stupidaggini, abbassando la voce di tanto in tanto, come se borbottasse fra sese, ma in realtà per comunicarmi informazioni importanti. Aveva scoperto che la signora con la cicatrice sulla mano era la seconda moglie del dottor Gerald Buxton, un medico molto noto dalla clientela altolocata. Lei non si riteneva pazza, pur non essendo benedotta sulle proprie condizioni, che in effetti non erano quelle tipiche dei malati di mente. Pons aveva attirato l'attenzione della signora e avrebbe fatto in modo di parlarle nuovamente. Era intenzionato a rimanere nel sanatorio ancora un giorno, fino all'ora in cui veniva concesso ai pazienti di passeggiare in giardino, fra le tre e le quattro del pomeriggio. Dopo avermi trasmesso queste informazioni, continuò impartendomi una serie di istruzioni, che una volta epurate dalle sciocchezze che vi mescolava per mantenersi in carattere col suo personaggio, suonavano più o meno così. Venite qui domani nel pomeriggio alle tre o un quarto per portarmi via, temporaneamente o definitivamente. Venite con un tassi, preferibilmente con Alfie Moore al volante. Ditegli che dovrai eseguire i miei ordini qualsiasi cosa accada. Può darsi che io sia costretto a buttarvi a terra e a lasciarvi indietro. Fingetevi anche voi vittime involontaria, come la guardiana della signora Buxton. Inoltre, mettetevi in contatto con David Benjamin e convincetelo a portare i marginali davanti all'ingresso riservato ai veicoli. Per creare un diversivo non appena verrà aperto il cancello, capite? E in linea generale, per ostacolare l'inseguimento. Tutto questo me lo disse sottovoce, non dandomi così la possibilità di ribattere. Ma, mio caro signor Porter, dissi un po' preoccupato, se qui non vi trovate bene, che cosa vorreste che io facessi per voi? Ho deciso di ritornare in Canada, annunciò ad alta voce, soggiungendo poi bisbigliando. Intendo rapire la signora Buxton. Rimasi senza fiato. Almeno, pensateci sopra ancora un giorno, implorai. Ho già preso la mia decisione, replicò Pons alzandosi. Mi recai a presentare i miei omaggi al dottor Soler, un uomo alto, ascetico, paludato in una finanziera nera, con gli occhiali a pansnee sugli occhi grigi e con una barbetta a punta che gli nascondeva il mento sfuggente. Gli feci una specie di rapporto sulle condizioni del mio cliente. Il vostro paziente? Ah sì, il signor Porter. Si è forse lagnato di qualcosa, dottor Parker? Oh no, no, dottore, risposi. Ma è irrequieto. L'ho persuaso a restare qui ancora un giorno. Ora si è messo in testa che vuol tornare in Canada, e non è escluso che io approvi il viaggio. Non vi sono precedenti di crisi violente? Assolutamente no. È un introverso, soltanto preoccupato dei suoi guai. Potete lasciarlo libero completamente, tranne di uscire, ben inteso. A meno che egli non cambi idea, verrò a prenderlo domani nel pomeriggio. Mi alzai. Il dottor Soler fece altrettanto, chinandosi in avanti con i suoi occhi grigi fissi su di me. Ditemi una cosa, dottor Parker. Abbiamo l'indirizzo del vostro studio, ma non quello di casa. Non siete voi quel medico che coabita con il signor Solar Pons? Non vi di ragione di negare un fatto tanto facilmente controllabile. Un uomo straordinario, mormorò il dottor Soler. C'è gente che la pensa così, ammisi. Corrugò la fronte. Sbaglio, o voi non ne siete proprio convinto del tutto? Ma non saprei. L'etica di Pons non è certamente quella di un medico, egregio signore. Dissi con un calore che non ebbi bisogno di fingere. Sorrise. Benissimo, dottor Parker. Nell'interesse del paziente ci atterremo alle vostre indicazioni. Misi in atto le istruzioni di Pons, tormentato da dubbi profondi sulla sua saggezza. Ovviamente egli voleva evitare che io venissi sospettato di complicità. Secondo la sua trama, anzi, secondo la sua promessa, io, dopo aver preso una bella botta che mi avrebbe mandato a gambe all'aria, sarei rimasto a terra. Ciò nonostante, mi sentivo infinitamente a disagio per il ruolo affidatomi in un'impresa fondamentalmente illegale. Il giorno dopo, puntualmente all'ora fissata, mi recai al sanatorio del dottor Soler. presentai i miei omaggi al direttore, pregandolo di farmi avere la sua parcella. Poi mi sedetti in attesa di Pons. Arrivò subito, discutendo volubilmente con il sorvegliante, ed io immediatamente gli domandai se avesse proprio deciso di lasciare la clinica per azzardarsi a fare un viaggio in Canada. Che così fosse era evidente. Lo dimostrava il fatto che il sorvegliante reggeva la valigetta che il mio amico aveva portato con sé nella sua volontaria segregazione. Per restare in carattere, rispose di sì, soggiungendo tali scempiaggini che il guardiano scrollò le spalle soghignando. Lasciato quel tetro edificio, uscimmo nel giardino cintato, dove in quel momento passeggiavano i pazienti sorvegliati dai loro guardiani. Alfie Moore ci aspettava col suo tassì davanti all'ingresso riservato ai veicoli. Il guardiano si affrettò a precederci per aprire il cancello, collocandosi di fazione per impedire qualsiasi eventuale tentativo di fuga da parte degli altri ricoverati. Proprio mentre stavamo per uscire dal recinto, Ponssi si incaponì a non oltrepassare il cancello aperto. Non voglio andare! Si sono tenuti il mio rasoio! Andiamo, venite! Dissi con voce sua dente. Ve ne procurerò un altro. Voglio il mio! Era quello di mio padre. L'avevo nascosto nel cassetto del tavolo in quella camera. Il guardiano si avvicinò. Il signor Porter si sbaglia, dottore. Non aveva nessun rasoio. Non si è fatto la barba e noi non abbiamo toccato la sua faccia. Ordini vostri. Sì, sì, lo so, grazie. Risposi nervosamente. Mentre noi discutevamo, una giovane donna tutt'altro che brutta si mosse dirigendosi verso di noi, seguita dal suo guardiano, un individuo grande e grosso che faceva temere per Pons difficoltà maggiori del previsto. A soli pochi passi, c'era il tassì di Alfie Moore con lo sportello spalancato, pronto ad accoglierci. Nessuno in vista. Solo una donna anziana che si allontanava in fondo alla strada, che era poi soltanto una traversa, sfociante nella grande arteria poco lontana. Su, venite, signor Porter. Siamo diretti in Canada. Guarda. Dissi in tono persuasivo. In quel momento la signora in grigio affrettò il passo verso di noi, gridando. Che cosa stanno facendo quel povere uomo? Il guardiano le rimase alle calcagne richiamandola. Ehi signora, attenta. Venite via da quel cancello. Di botto Pons abbandonò il suo personaggio. Con un rapido movimento del braccio, mi scaraventò contro il suo guardiano con tanta violenza che entrambi, guardiano ed io, finimmo a gambe all'aria. Quasi nello stesso tempo, si può dire, Pons stese a terra con un energico cazzotto il sorvegliante della signora. Afferrò la donna per la mano e la spinse nel tassì, proprio mentre i due custodi si rialzavano in piedi. Come per un colpo di bacchetta magica, i marginali di Pride Street si materializzarono dal nulla. Ammucchiandosi, strepitando ed urlando fra il tassì e i guardiani. Saltellando qua e là, azzuffandosi. In una parola, facendo il diavolo a quattro, ostacolando così il passo ai sorveglianti e anche a me, che, rialzatomi, correva urlando appresso alla vettura che si allontanava a gran velocità. Dietro di noi, il campanello d'allarme squillava con insistenza, ma ormai il tassì, voltato l'angolo, era già scomparso. Dopodiché, anche i marginali si volatilizzarono come nebbia al sole. Voltandomi, mi trovai di fronte il dottor Soler, che faceva del suo meglio per controllarsi. «L'indirizzo dei parenti di Porter. Presto, dottore!» disse. «Non c'è tempo da perdere. Quella donna è pericolosa. Pericolosa!» Gli diedi l'indirizzo del fantomatico nipote di Samuel Porter, aggiungendo le mie scuse e l'espressione del mio rincrescimento, cosa che lasciò del tutto indifferente, Soler. Munito dell'indirizzo che gli avevo dato, egli corse via, piantandomi in mezzo alla strada, come se io avessi cessato di esistere. Aspettai due ore prima di tornare a casa in Pride Street. Avevo ritenuto prudente a rifugiarmi per qualche tempo nel mio studio, non trascurando di fermarmi durante il cammino per avvisare telefonicamente il nipote di Samuel Porter. Quando tornai in Pride Street, trovai Pons in soggiorno. La sua scarna figura curva su un libro di consultazione che lì per lì io non riuscì ad identificare. Non alzò nemmeno gli occhi quando entrai, ma evidentemente aveva riconosciuto il mio passo. Vi devo le mie scuse, Parker. Temo di essere stato troppo brutale con voi quest'oggi. Ah, lasciamo perdere. Ma che diavolo state combinando, Pons? La polizia è venuta nel mio studio. Mi ha messo sotto torchio, sapete? Porter naturalmente è scomparso. Svanito senza lasciar traccia. Questo è quello che diranno i giornali. Che ne avete fatto della signora Buxton? Le ho dato un sedativo per farla dormire. È in camera vostra. In camera mia. Per favore non allarmatevi. Voi ed io per questa notte divideremo la mia stanza. Avete avvisato il marito? Oh, credo che fra non molto lo vedremo comparire. Mi fissò con un lungo sguardo interrogativo. Che ne sapete del dottor Gerald Buxton, Parker? Ha una clientela selezionata. È il medico delle vedove danarose, parcelle astronomiche. Un libertino che sperpere il suo denaro alle corse e in certi altri posti. È stato lui stesso a far internare sua moglie. Si capisce. Pons, io ve l'avevo detto che stavate commettendo un errore. Io? Può essere. Ma la signora no di certo. È la seconda moglie di Buxton. Da ragazza si chiamava Angeline Megan. Questo non vi dice niente? Oh, sì, certamente. La figlia del defunto magnate del sapone, Andrew Megan. Figlia unica per di più. È unica erede. Completò pons in tono asciutto. La prima moglie morì in un sanatorio di Bristol. Che tutte e due le mogli di Buxton siano diventate pazze è qualcosa di più di una semplice coincidenza, secondo me. A mio avviso, anche il fatto che entrambe fossero ereditiere. O non nel senso iperbolico della parola si intende. Ma pur sempre ereditiere. E con una cospicua assicurazione sulla vita. Beneficiario il dottor Buxton. Anche questo è certo qualcosa di più di una semplice coincidenza. Non trovate? Lo guardai a bocca aperta per un intero minuto, prima di ritrovare la voce. Oh, pons. Può darsi che Buxton sia, come diciamo noi medici professionisti, un cocco delle signore. Ma non ha nessun bisogno di essere ciò che voi state insinuando che sia. E per finire, richiamo umilmente la vostra attenzione sui pettegolezzi mondani recentemente apparsi sui giornali. Da cui risulta che il dottor Buxton è l'accompagnatore fisso al Covent Garden di una certa signorina. Anche lei erede di una grande fortuna. Santo cielo, che uomo intraprendente. Molta gente lo ammira. Guarda un po'. Come dice De Pro, uno sciocco trova sempre un altro sciocco che lo ammira. Soprattutto siete pregato di ricordarvi che Buxton deve ignorare la presenza in casa nostra di sua moglie. Quell'individuo non è uno sciocco. Una volta informato della connessione fra me e voi, non perderà tempo ad iniziare la ricerca di un certo signor Samuel Porter. E sua moglie? Lei cosa dice? Buxton l'ha fatta internare tre mesi fa. È dimagrita. I suoi vestiti non le vanno più bene. È convinta che la stiano lentamente e sistematicamente avvelenando. È Buxton che fornisce le medicine che lei deve prendere. Il dottor Soler e il suo personale prudentemente fingono di non vedere. Non mi piace per niente il vostro dottor Soler, ma è scaltro. Purtroppo fino a questo momento è riuscito a tenersi lontano dalle grinfie della legge. A sentire la signora, suo marito non ha poi una clientela tanto redditizia da potersi permettere di spendere e spandere come sta facendo. Egli, oltre a farsi nominare tutore della moglie, l'ha costretta a firmargli una procura generale. Così, sia la signora sia la sua fortuna, sono alla Mercedes Buxton. In quell'istante un tassì, scendendo velocemente la strada, venne a fermarsi davanti al nostro portone. Questione di un minuto. Poi udimmo il rumore del battente spalancato con vehemenza, e subito dopo, dei passi precipitosi salire per le scale. Un uomo grande e grosso, con molta premura. disse Ponce con calma. Vi prego di controllarvi Parker, anche se egli avrà l'aria di essere incline alla violenza sia nelle parole che nei fatti. Aperto senza tanti complimenti l'uscio del nostro appartamento, il visitatore fece il suo ingresso nella stanza in cui ci trovavamo. Era davvero grande e grosso, di struttura robusta. Il volto porcino, rubicondo e colorito, labbra sensuali, baffi folti e occhi sporgenti che ci fissavano sprizzanti collera. «Il dottor Buxton, suppongo», disse Ponce sorridendo. «Allora mi conoscete? Non può essere una coincidenza», disse Buxton parlando a denti stretti. La mascella inferiore è spinta in avanti. Le sue dita fremevano, stringendo il pesante bastone di ebano che aveva in mano. «Fa parte del mio mestiere conoscere molta gente, dottor Buxton», accennando a me, Ponce soggiunse. «Il mio amico e collega, il dottor Lyndon Parker». Buxton mi diede un'occhiata sprezzante. «O meglio il vostro tirapiedi! Non mi incantate! Dov'è mia moglie?» «Vi riferite alla moglie di cui vi siete già sbarazzato, o a quella di cui siete in procinto di sbarazzarvi?» Buxton diventò quasi paonazzo dalla rabbia. Alzò il bastone, agitandolo minacciosamente. Poi, subito, si chinò in avanti, e poggiando il palmo della mano sul tavolo che lo divideva da Ponce, con voce strozzata, disse «Vi conosco, signor Solar Ponce, ficcanaso intrigante. Vi avverto, non mettetemi bastoni fra le ruote, altrimenti vi spezzerò. Così!» E così dicendo, lasciò cadere il bastone sul tavolo. Afferrò una scopa dimenticata dalla nostra paziente padrona di casa, e con un gesto rabbioso la spezzò in due. Per tutta risposta Ponce, si chinò, raccolse il pesante bastone del nostro visitatore, e dopo averlo spezzato in due parti uguali, porse i tronconi a Buxton. Prego, dottore, non dimenticate il vostro bastone. Per un momento i due si fronteggiarono in silenzi. Poi, Buxton, con un inarticolato ruggito di rabbia, voltate alle spalle e scaraventati per terra i due monconi del suo bastone di evano, uscì dal nostro appartamento con la stessa furia con cui vi era entrato. «Un uomo pericoloso», dissi dopo aver udito sbatacchiare il portone. «È davvero furioso». «Dite piuttosto un uomo molto spaventato, Parker», ritorse Ponce. Girò intorno al tavolo, e raccolti i pezzi della canna da passeggio di Buxton, li buttò nel caminetto. Poi, mentre si toglieva di tasca qualcosa, tornò al suo posto. La signora Buxton ha avuto la presenza di spirito di portare con sé due di quelle pillole che il marito le faceva prendere. Un'analisi della loro composizione potrebbe risultare interessante quanto determinante. «Difficilmente il marito si sarebbe azzardato ad avvelenarla, Ponce». «Credete?» Il dottor Soler vede soltanto quello che gli fa comodo vedere. La signora non ha subito maltrattamenti. Tutti i sorveglianti sono in grado di testimoniarlo, e non mancherebbero di farlo. Il dottor Soler può presentare una cartella clinica, dalla quale risulta la progressiva e costante consunzione, e il deperimento organico della paziente. Non trovando nulla da ridire il marito, è poco probabile che lo farebbe qualcun altro. Parenti prossimi non ne ha. «Eh, voi siete troppo pronto a limitare i confini della crudeltà umana, Parker. Quell'uomo è caparbio, tortuoso, tenebroso. Non tollera interferenze. È capace di tornare qui con un mandato di perquisizione entro dodici ore. Ma in quel momento la signora Buxton sarà presa in cura da Sir Francis Jeffers, cui ho già telefonato, facendogli la cronistoria del fatto. Sono del parere che Buxton ci penserà due volte, prima di discutere il giudizio di un medico tanto eminente. «Oh, Ponce, egli troverà comunque la maniera per riavere la moglie in suo potere.» «Non credo. Dopo che Sir Francis l'avrà visitata, la signora andrà a parlare con il suo avvocato. Una volta le cose arrivate a questo punto, Buxton sarà liquidato. Resta a vedersi che cosa egli riuscirà a fare prima che questo avvenga. Ma io ho ancora in serbo un paio di sorpresine per lui.» Si stropicciò le mani con evidente soddisfazione. E adesso, Parker, occupatevi di far fare l'analisi delle pillole del dottor Buxton. «Tornando a casa, dopo aver fatto analizzare nel laboratorio Thorndike and Polton le pillole della signora Buxton, trovai Sir Francis Jeffers ad ascoltare il racconto di Bones. Sir Francis, un uomo molto austero che aveva superato la mezza età e portava il monocolo, socchiudendo gli occhi mi lanciò un rapido sguardo. Poi mi fece un cenno di saluto.» «Il dottor Parker qui ha fatto analizzare la medicina della signora Buxton», spiegò Ponce. «Forza Parker, dateci i risultati. Ho l'impressione di aver colpito nel segno. Un derivato del solfato. Ogni pillola ne conteneva 64 centigrammi.» Sir Francis mi fissò pensieroso. «Ah, l'intenzione era quella di tirare in lungo alcuni mesi. In che dosi venivano somministrate le pillole?» «Credo che questo potremmo accertarlo domandandolo alla signora stessa. Se non sbaglio, l'ho udita muoversi.» Così dicendo, Ponce si alzò e, dopo essersi scusato, sparì in direzione della mia camera, tornando poco dopo in compagnia di una donna bruna sulla trentina, che si aggrappava al suo braccio quasi spasmodicamente. «Signora Buxton, da quanto tempo vi trovavate nella casa di cura del dottor Soler?» chiese con gentilezza a Sir Francis. «Da sei settimane, mi pare.» «E le pillole prescritte da vostro marito? A che intervalli le prendevate?» «Ogni giorno, finché non cominciai a sospettare che ci fosse qualcosa che non andava.» «Volete dirci come mai eravate rinchiusa dove il signor Ponce vi ha trovata?» «Mi ci ha portata a mio marito.» «Contro la vostra volontà?» sorrise stancamente. «No, però mi ci ha fatto rimanere contro la mia volontà. Era sempre molto gentile con me, pieno di attenzioni. Non avevo motivo di diffidare di lui. Mi diceva che non stavo troppo bene, ed in effetti da qualche tempo avevo avvertito dei disturbi. Secondo lui io non ero malata, ma, poiché c'era da temere per il mio equilibrio psichico, riteneva consigliabile un breve periodo in sanatorio. Io seguì il suo consiglio, però dopo non mi sembrò di essere in condizioni tali da giustificare una prolungata permanenza nel sanatorio. Ogni volta che gli chiedevo di portarmi via, lui rimandava, finché alla fine capì che non aveva alcuna intenzione di togliermi di là. Per la maggior parte del tempo ero guardata a vista. Le mie lettere non venivano imbucate, e non potevo né telefonare né telegrafare, niente. Ho tentato di tutto. Una volta ho persino buttato una lettera oltre il muro di cinta, ma quelli della clinica l'hanno recuperata, ed allora mi hanno negato anche l'occorrente per scrivere. Poi quel sassolino. Sapeste come sono grata a quel ragazzo, chiunque egli sia. E a voi, signor Ponce. Fatemi vedere le mani, signora Buxton, disse Sir Francis. Senza la minima esitazione gli porse le mani. Egli le tenne fra le sue per alcuni istanti, palpandone le palme delicatamente. Poi le congiunse insieme, battendovi sopra dei colpetti rassicuranti. Siete nervosa, stanca, sofferente, signora Buxton. Ma sono sicuro che non c'è niente di serio. Sopprimendo le pillole di vostro marito, vi rimetterete presto. Volete che vi prenda in cura io? Certamente. Ma devo vedere il mio avvocato, per revocare la procura rilasciata a mio marito. Chi è il vostro avvocato? Leonard Ransiman. Sono sicura che a quest'ora sarà nel suo studio. Benissimo. Giù c'è la mia automobile. Mi permettete di farvi accompagnare dal mio autista. Io vi raggiungerò nello studio dell'avvocato Ransiman da qui a poco. Mi fareste un grande favore. Ho già telefonato l'avvocato, disse Ponce. Vi ringrazio, signor Ponce. Premurosamente, Sir Francis accompagnò la signora ad abbasso. Ponce, che per ripararla dal cattivo tempo le aveva messo sulle spalle il suo cappotto a mantellina, controllò dalla finestra che salisse in macchina senza inconvenienti. Non si sa mai fin dove possa arrivare un mascalzone recidivo come Buxton. Mormorò. Bene, ecco che va via. Sir Francis sta tornando di sopra. Si voltò verso la porta, assumendo la sua posa abituale, le mani incrociate sul dorso, il volto fiero, reso quasi altezzoso dal profilo spiccatamente aquilino. Non appena Sir Francis ebbe di nuovo barcato la soglia, gli chiese. Che ne pensate della signora, Sir Francis? Non posso esserne sicuro, ma ritengo che sia assennata quanto voi e quanto me. Ha passato un sacco di guai, ha i nervi a pezzi, è in uno stato di ansietà davvero grande. Ma c'è in lei una enorme forza di resistenza. Se la caverà senza conseguenze. Le avete reso un grande servizio, signor Ponce. Le sue condizioni rivelano sintomi di avvelenamento. Non v'è dubbio. Questo spiega il suo stato di salute. Bisognerà curarlo. Che piano diabolico. Mi riesce difficile credere che suo marito abbia fatto una cosa del genere. Oh, non una, ma due volte. Anche la prima moglie è morta in un asilo di pazzi. Santo e Dio, che razza di uomo è mai costui. L'udito vigilante di Ponce colse uno stridio di ruote sulla strada. Sorrise acidamente. Se non sbaglio, ora potrete rendervene conto di persona. Tutto si ripetè come la prima volta. Il portone venne fragorosamente sbatacchiato, le scale vennero martellate da uno scalpiccio prepotente, l'uscio del nostro appartamento venne spalancato senza la formalità del bussare. E là stava il dottor Gerald Buxton, alquanto scarmigliato, con un bastone nuovo in mano e il volto porcino ancora più paonazzo di collera. Signor Ponce, sono venuto a prendere mia moglie. State in guardia. La vostra casa è sotto controllo. Ponce si avvicinò con calma alla finestra che dava su Pride Street e guardò in basso. Ah, vi siete portato i vostri gorilla. Avevo creduto che saresti stato tanto imprudente da rivolgervi alla polizia. Dov'è mia moglie? Troppo tardi, Buxton. È stata presa in cura da Sir Francis Jeffers, che, io ritengo, uno specialista di gran lunga più competente di voi, in fatto di malattie mentali. Farà butto di un ficcanaso! urlò Buxton furibondo, alzando il bastone in un gesto minaccioso. Già, e intendo ficcare il naso ancora più in là, egregio signore. Non è escluso che una richiesta di esumazione della salma della vostra prima moglie venga inoltrata all'autorità competente. Buxton sorrise sardonicamente. Ah 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 ah! Dovete avermi preso per un imbecille, signor Segugio! La sua voce era satura di disprezzo. Al contrario, ho la massima considerazione per i vostri talenti, se non per i vostri sistemi, dottor Buxton. Certamente siete stato tanto astuto da evitare l'uso di un veleno le cui tracce siano ancora reperibili a distanza di tanto tempo. Ma non occorre tirare in lungo questa scena penosa. Due ore fa, abbiamo fatto analizzare le pillole che somministravate alla vostra attuale moglie. Contengono una sostanza chimica letale, e questo è incontestabile. Vostra moglie ha revocato la procura a che vi aveva rilasciato, e domani inizierà un'azione legale contro di voi. I vostri bei progetti, dottor Buxton, questa volta non si realizzeranno esattamente come li avevate pianificati. Le pillole, la dichiarazione di vostra moglie e la mia deposizione saranno nelle mani della polizia prima di mezzanotte. E adesso vi auguro la buonanotte, egregio signore. Buxton rimase per un istante e come paralizzato, il braccio ancora alzato nel gesto minaccioso. Sul suo volto, non un fremito di emozione. Dopo che Pons ebbe finito di parlare, ristette in moto come una statua di marmo. Se vide crollare il suo castello di carte, se ebbe la visione di come lo avrebbero conciato i giornali, se si sentì rovinare intorno il suo mondo, esteriormente non lo diede a vedere in nessun modo. Poi il suo volto sbiancò. Dalle sue labbra turgide esplose una specie di ruggito. Voltate le spalle, scese le scale a precipizio, senza prendersi la briga di chiudere la porta. Sir Francis ruppe il silenzio con un discreto colpetto di tosse. Paranoia, clinicamente comprovabile. Un uomo dominato dalla violenza, ma per fortuna, sua moglie non è più sulla sua linea di tiro. «Con chi se la prenderà adesso?» disse Ponce. Sentiremo ancora parlare di lui. E Ponce non sbagliava. I giornali del mattino dopo divulgarono la notizia che il dottor Gerald Buxton si era ucciso con un colpo di rivoltella nella sua casa in Park Road. Gli audio racconto Serie Solar Ponce La virgola al posto giusto di August Derlet Letto da Adam Doivel La virgola Sap Likola Likola Last Guardua La virgola La virgola Un croix Sali Chiar